Un appuntamento quello di Dalla Territorio, oggi dedicato ancora una volta agli amici a quattro zampe. Andiamo a salutare una delle nostre ospite, ormai quasi un'abitue, Gigliola Medici. Ancora eventi e iniziative a favore dei nostri amici a quattro zampe. Questa volta dove siamo e come si chiama l'evento? L'evento è sempre City Dog Show, perché ormai fa parte della nostra associazione. Saremo di nuovo a Roma, perché è molto ampia, quindi dobbiamo comunque muoverci nella zona di Roma ancora. È un centro addestramento sulla Nomentanea e si chiama Mentana S Dog. Anche lì faremo il nostro evento con uno speciale, questa volta diverso dall'altro, perché oltre a dedicarlo anche al cane corso, che comunque è quello che poi fa parte del nostro gruppo, faremo uno speciale per gli American Bulli, che è una razza ancora non molto conosciuta, ma che cercheremo comunque di ampliarla anche con le conoscenze che abbiamo. No, infatti di che cane si tratta? American Bulli è un cane che ovviamente non è ancora tanto conosciuto, è un cane americano, dove sono più di una razza creata per creare questo cane, dove c'è in mezzo l'Harmstaff, il Bull Terrier e... Sì? Ok, il Bull Terrier è ovviamente una razza pochissimo conosciuta, quindi anche se ha preso piede, diciamo, è diventata un po' una moda, quindi faremo anche questo speciale. Ecco, nel frattempo vediamo le immagini, questa e le varie foto che tra l'altro mi hai inviato su Facebook. Qui dove eravate? Qui eravamo allo scorso evento del 7 novembre che abbiamo fatto, fortunatamente c'era una giornata spettacolare e quindi era lo scorso evento che abbiamo fatto sempre. Ecco, questo è un American Bulli che non si vede tantissimo perché dorme, la mia American Bulli. Ovviamente i premi? I premi, sì, perfetto. Sempre divisi per categorie? Sì, qui c'è una premazione con dei cani corso. Ecco, quanti hanno partecipato a questo evento? Ecco, quelli sono tutti American Bulli, perdonami se non ti rispondo alla domanda perché era il momento dei bambini dove vengono premiati e quei cagnolini grigi che vedi, quelli sono American Bulli. Allora partecipa Cane Corso, questa è la famosa Carlotta del nostro amico Michele Tinelli. Allora hanno partecipato, diciamo che c'era una abbastanza fetta di gente, anche venuta comunque da Napoli, zone limitrofe. Quindi non soltanto di Roma? No, perché diciamo che la nostra pubblicità viene fatta abbastanza ampia sui social network, quindi ormai chi ci conosce ovviamente sa che i nostri eventi sono comunque a scopo benefico e quindi ci segue volentieri, quello sì. È capitato che magari amici a quattro zampe proprietari che hanno partecipato ad un evento, poi ve li siete ritrovati anche all'evento successivo? Sempre. Devo dire che ormai la bella fetta, diciamo siamo partiti da Civile Vecchia come il primo evento e poi questo è il nostro terzo evento, devo essere sincera, sono tanti che ci seguono spesso, ci ritroviamo perché ormai poi diventa una famiglia unita tra amici a quattro zampe e umani. Come sempre ci saranno delle categorie? Ci sono le categorie, è aperta sempre a tutte le razze sia con pedigree, senza pedigree, ai meticci e le categorie ovviamente partiranno dai cuccioli fino ad arrivare all'intermedia perché verranno classificate anche in base ai mesi e all'età che hanno. Ovviamente anche i bambini avranno loro spazio. I bambini sono sempre pronti allo spazio. Anche perché anche se non date loro del modo di partecipare credo che lasceranno i grandi a casa e non soltanto loro. Ma infatti questa volta ci sarà una sorpresa, ci sarà anche Peppa Pig proprio per invogliare i bambini ad essere presenti e poi il nostro obiettivo è sempre quello di amalgamare gli animali con i bambini proprio per far conoscere il mondo cinofilo. E soprattutto anche per cercare di spiegare come si deve tenere un cagnolino. Bravissima, sì. Oltre come si deve tenere un cagnolino ovviamente poi le responsabilità che è un cane, soprattutto quello. Ecco, avete avuto dei dati magari sotto le festività o comunque in queste estate ci sono stati più abbandoni rispetto agli anni scorsi? Purtroppo sì, come tutti gli anni. Ovviamente l'interesse nostro anche in questi eventi cinofili, e vado anche a discapito mio perché essendo oltre a distratrice è anche allevatrice, quindi vado anche a discapito. Normalmente consiglio sempre che prima di prendere un cane bisogna comunque essere sicuri di quello che si prende. Magari ci sono canili pieni di cani dove comunque hanno bisogno di essere tirati fuori. Diciamo che devo puntare una lancia a favore di tante persone che chiedono l'aiuto a livello di prendere un cane in un canile. Allora, io personalmente, parlo personalmente, sono un po' contraria alle norme che ci sono a livello di associazioni, a livello di adozioni, nel senso l'obbligo di sterilizzazione, l'obbligo comunque sia di sterilizzare un cane, un maschio, una femmina comunque a un'età di sei mesi. Ovviamente presumo, e questo posso concederlo nel senso che ovviamente lo si fa per evitare che comunque ci siano continue cucciolate e abbandoni. Però credo che chi voglia comunque adottare un cane e entra in un canile per prendere un cane probabilmente lo fa perché quel cane è per sempre e difficilmente lo riporta in un canile. Quindi obbligare la sterilizzazione in certo qual modo sono contraria per il semplice motivo che comunque si mette a repentaglio comunque la vita di un cane, a repentaglio no, però comunque si crea comunque un problema psicologico al cane di comunque di non fare il suo livello, cioè arrivare comunque ad avere una cucciolata, se è una femmina o comunque a castrare un maschio dove l'obbligo probabilmente dovrebbe essere preso su determinate situazioni. O comunque il controllo normalmente che fa l'associazione nel momento che dà il cane è giustissimo. Cioè quindi nel momento in cui io vado in un canile per adottare un cane ho l'obbligo di sterilizzarlo? Sì, purtroppo sì. E se mi rifiutassi perché magari a caso un mio vicino ha un cane o penso in un futuro di volerlo per accoppiare perché vorrei tenere anche i cuccioli non posso farlo? Non puoi. Allora concepisco il fatto che la castrazione viene fatta per un semplice motivo, per evitare le cucciolate e gli abbandoni degli altri cuccioli e che i canini si riempiano nuovamente. Però questo rimane sempre il fatto che comunque sia nel momento che tu decida di prendere un cane e quindi comunque portartelo fino alla morte e magari dare la possibilità a una femmina di avere delle cucciolate, questo non puoi farlo perché comunque la prassi e la legge comunque ti vieta di poter prendere un cane e non sterilizzarlo. Diverso invece è l'acquisto in un centro-destra? Bravizia, quindi purtroppo questo è a mio discapito, lo dico però ti dico che purtroppo spesso e volentieri l'adozione non viene fatta proprio perché ci sono dei limiti e quindi dei conflitti e la gente preferisce acquistare un cane che poi comunque sia il cane acquistato possa essere riportato nell'allevamento perché magari non si è in grado di tenerlo, può succedere anche lì, quindi sono le stesse identiche cose. Ovviamente l'acquisto comporta una cifra di denaro che magari si potrebbe evitare prendendo i cani in cani lì che è pieno, però ovviamente se ci sono delle clausole che comportano determinate situazioni, chi vuole magari un cane che vuole fare dei cuccioli, che vuole comunque avere magari una cucciolata per poterla regalare ai amici, non lo può fare perché comunque c'è l'obbligo, quindi su questo purtroppo la penalizzazione dell'adozione è molta, la legge non l'abbiamo fatta noi, c'è questa legge, io purtroppo da associazione, da destratrice sono contraria, quindi dicendo queste cose mi troverò di fronte tutti col fucile puntato perché non dovrei dirlo, però questo implica molto, implica l'adozione su tanti cani che magari potrebbero uscire dai canili. Ecco tutte queste cose tu ovviamente le dici nel momento in cui magari ti chiedono un consiglio. Mi è successo, mi è successo che gente mi ha chiesto il consiglio per andare a prendere dei cani, dove poi si è trovata con l'obbligo di sterilizzazione, ovviamente c'è qualcuno che magari non l'ha fatto, ma va sempre comunque a discapito perché va contro la legge e contro quello che poi alla fine firma, perché quando si fa un'adozione comunque sia c'è una documentazione da firmare, quindi comunque va a firmare un documento dove hai sei mesi di età del cucciolo, nel caso viene preso da cucciolo, deve essere castrato o sterilizzata se nel caso fosse femmina. E in caso invece il cucciolo che io adotto non ha sei mesi ma ha un anno? Un anno viene già castrato da loro, quindi viene comunque preso già in sottoforma comunque di castrazione, quindi lo prendi già che sei consapevole che il cane non potrà fare cucciolate o non potrà essere comunque un riproduttore. Che tipo di cani, ti dicono subito che tipo di cani vorrebbero adottare, di che razza? Guarda, tendenzialmente cercano sempre i cuccioli, comunque la razza poi è indicativa perché poi il cucciolo diventa comunque grande, è piccolo in quel momento però poi cresce. Bravissima, però normalmente dipende anche dalla necessità che uno ha di adottare, nel senso chi vive in un appartamento normalmente non cerca mai un cane che magari poi è bravissima o comunque un cane che potrebbe essere enorme. Normalmente chi adotta cerca comunque di prendere i cuccioli e di farli crescere con loro perché magari il cane più grande per loro non è considerabile come un cane che magari può essere addestrato, che non è vero assolutamente perché i cani del canile sono cani che comunque hanno bisogno di affetto, di calore e quindi ogni cane che esce dal canile comunque sia è un cane che ha bisogno del calore familiare, quindi che sia cucciolo, che sia adulto non cambia perché vengono da situazioni che sono drastiche e ovviamente la percentuale che va via dalle adozioni sono i cuccioli, cioè è inutile nasconderlo perché sono quelli che poi ovviamente prendono il cucciolo per il figlio e quindi tendenzialmente è un regalo per il figlio. A volte c'è anche chi prende il cane che magari non si rende conto poi di quello che poi sarà la responsabilità nel portare avanti un cucciolo perché i cuccioli ovviamente hanno delle situazioni e comunque delle esigenze diverse da un cane adulto e quindi poi magari chi si lamenta che magari trova i panni rotti, le ciabatte, ovviamente è tutto messo in conto, cioè il cane non è un peluche e lo dico sempre, quindi nel caso comunque uno pensa che prenda un cane e si accomando fin da piccolo è preferibile che vada a comprare un peluche al figlio e vada a prendere un animale. Più che altro un cucciolo è un po' come un bambino piccolissimo. Bravissimo, un bambino inamato. Esatto, poi dici no però se ne ha da fare una marachella la fa con me. Certo, anche perché poi non tutti siamo capaci di comunque dare un'educazione fin da piccoli, magari uno si fa prendere un attimino dall'entusiasmo di acquistarlo, però poi magari non ha un carattere a volte per poterle educare, quindi i cani sono comunque anche come i bambini, se ne approfittano. Quindi se non c'è una regola diventa poi problematico comunque sul seguizio dell'età, quindi il cane poi diventa il capo branco della famiglia e quindi questo non deve succedere. Torniamo all'evento adesso, dove, come, quando e come sarà divisa la giornata? Allora, l'evento è a Roma, all'AS Dog Numentanum, zona mentana. La giornata divisa che partirà all'inizio della giuria sarà a mezzogiorno, quindi abbiamo dato un orario molto, diciamo, lungo, per il semplice motivo che la mattina ci dedicheremo alle iscrizioni, quindi dalle 9.30 fino alle 11.45 saremo lì per poter far aderire gli iscritti. A mezzogiorno inizierà la giuria, quindi con la divisione delle classi ci sarà l'inizio giuria e alle 14.00 faremo la pausa pranzo, perché normalmente non riusciamo mai a fare per il caos, quindi diamo un orario di pausa pranzo in modo che tutti abbiamo un orario dalle 14.00 alle 15.00 per mangiare anche un panino. Alle 15.00 riprenderà, ovviamente ci sono parecchie sorprese, oltre dicevo a Peppa Pig, abbiamo un carissimo amico dove fa dei lavori in Greta e quindi ha fatto delle statue che rappresentano un po' i cani che sono presenti quel giorno, quindi ci saranno anche dei premi particolari diversi rispetto a quello che sono le solite coppe e coccarde. Ovviamente spereremo comunque nell'afflusso della gente, anche perché voi sapete benissimo che i nostri eventi sono a scopo benefico, quindi ovviamente ogni evento è sempre, il devoluto va sempre in beneficenza a chi ne ha bisogno. Ecco ricordiamo, questo evento a chi sarà devoluto? Guarda, allora per il momento ci sono due cani che hanno bisogno, però una parte andrà devoluta a una persona che in Sicilia, a Palermo adesso ha perso tutta la sua proprietà a livello di casa e l'allevamento, dove aveva i suoi bassotti, ha preso fuoco, quindi diciamo che si è salvata la famiglia, pura purtroppo non si sono salvate né le cucciolate e né quello che aveva, quindi ha perso veramente tutto. Quindi una parte la vorremmo dedicare proprio a lui, oltre che era un amante degli animali e un allevatore, ma ovviamente dato che comunque alla fine la nostra beneficenza deve essere fatta, quindi anche se andrà una parte in beneficenza a una persona che deve ricostruire quello che poi ha fatto con amore, una parte andrà sicuramente a lui e poi a chi ne ha bisogno nelle necessità. Ti dico che il scorso evento abbiamo dato al famoso cane di Palermo, dove adesso è stato adottato, a una famiglia, è in condizioni bellissime, ma abbiamo anche dato a livello alimentare dei sacchi a chi ovviamente in questo periodo di crisi che non lavora e magari deve mantenere i cani, pur di non abbandonarli, portarli in canire, cerchiamo di dargli una mano. Ti ringrazio tantissimo. Ma io ringrazio sempre voi per la disponibilità. Grazie ovviamente anche ai nostri telespettatori, ci vediamo subito dopo la sigla. Grazie a tutti.